Sono qui per rivolgervi un ultimo appello, per chiedervi di votare per me, Marco Giorgiani, quale candidato a sindaco per il Comune di Libari. Io rappresento il candidato di un'ampia coalizione, cinque liste mi sostengono, l'Udc, il Nuovo Giorno, il Fli, il PD e l'articolo comuni. Questo è un progetto per l'amministrazione del Paese. Ciò che vogliamo fare è dare a questo Paese un'amministrazione adeguata, seria, all'altezza. Un progetto che è in assoluta discontinuità con l'amministrazione precedente, ma che ha avuto la presunzione e la speranza di coinvolgere tutti per dare a questo Paese un'amministrazione all'altezza. Un'amministrazione di questo Comune che deve tornare a essere quello che deve essere, un posto dal quale i cittadini ottengono i servizi di cui hanno diritto, non un posto nel quale ogni soddisfacimento di diritti venga trasformato e venduto come una gentile concessione. Se voi credete che il nostro è un obiettivo raggiungibile, che la nostra sarà un'amministrazione incredibile, seria e adeguata, votate Marco Giorgiani e votate un consigliere tra quelli che sostengono questo progetto. Noi non abbiamo intenzione di occupare posti di potere, non abbiamo intenzione di occupare qualche poltrona in più in Consiglio Comunale. Ciò che vogliamo dare al Paese un'amministrazione seria ma forte, adeguatamente forte, sufficientemente forte per fare le scelte e raggiungere gli obiettivi che questo Paese merita. Votate Marco Giorgiani.